stai registrando ciao ragazzi sto registrando in mattinata questo gioco si chiama Tasty Planet l'ho già completato parla di questa bestia fatta al laboratorio che l'hanno vista nelle cellule e io vedi le particelle ci dobbiamo mangiare tutto poi mangeremo auto nei prossimi episodi ve lo prometto dobbiamo fare ultra velocemente perché poi potremo mangiare anche le cose più grandi e sarà meglio più divertente poi però ci potrebbero essere cose nei prossimi livelli che ci fanno danno che ci fanno maluccio e non lo preferirei tanto lo metto qua perché almeno posso vedere la vita bene stiamo andando bene benino mi sto gnamando tutto mi taglio eh ok ora mi posso mangiare anche questi cosi gnam 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 come dice ci abbiamo fatta ci abbiamo fatta ci abbiamo fatta ci abbiamo fatta sì ci abbiamo fatta bene ragazzi nel prossimo episodio andremo avanti ci sarà uno due tre quattro cinque episodi altri spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale ciao